Siamo così giunti veramente al termine del nostro RMS Party ma è un termine un po' particolare Vorrei riprendere una frase molto bella di Gianni Agus del lontano 1979 quando concluse appunto il suo ciclo di trasmissioni Beh stasera è una rivederci un po' speciale, non è per le prossime sere ma per un'altra occasione E da diversi anni con oltre 1500 trasmissioni fino ad oggi sono stato il vostro amico della sera Un amico molto discreto che parlava di musica magari fatta col cuore Non era in grado di vedere quello che voi stavate facendo a casa vostra Che rimaneva a parlare e in qualunque momento voi potevate cambiare stazione oppure togliergli la parola senza che se ne offendesse Adesso comunque ve ne vado, magari mi ritroverete su internet oppure in quello stesso apparecchio da cui mi avete ascoltato fino ad oggi Ancora arrivederci e buona danza a tutti Ancora arrivederci e buona danza a tutti